Quest'anno al Made Expo, tra i vari prodotti che abbiamo portato e presentato, ci è piaciuto portare un assaggio di uno studio che stiamo realizzando con l'Università di Venezia per quanto riguarda il tema del Cool Roof. Ormai sappiamo tutti quanto determinati materiali di colorazione chiara permettono di mantenere le temperature dell'involcro edilizio più basse, quindi migliorare l'efficienza energetica. Noi abbiamo voluto comunque portare avanti uno studio con l'Università per dimostrarlo e per poter eventualmente migliorare anche queste prestazioni. Abbiamo portato quindi due esempi di copertura, una di colore scuro e una di colore chiaro, applicate delle termocoppie che evidenziano in un grafico che va avanti durante tutta la giornata le differenze di temperature all'estradosso e all'intradosso degli stessi pacchetti isolanti.